Si chiamano lampioni intelligenti, sono in grado di regolarsi automaticamente in base alla luce del sole e soprattutto possono trasportare dati. Saranno questi i nuovi aiuti per la sicurezza del capoluogo. Se Palazzo Rosso con il Consorzio Bimpiave portasse a casa il finanziamento europeo, l'intera città sarebbe in pratica cablata. Ad ognuno di questi lampioni potrebbe essere potenzialmente attaccata una telecamera e trasportare i dati sulla linea elettrica. Questo ci consente di poter coprire in modo molto più capillare. Oggi infatti il grande limite è che ci vuole la fibra ottica. La fibra ottica passa soltanto in pochi posti della città di Belluno ed è il costo più grande. Significherebbe poter mettere la videosorveglianza anche nelle aree periferiche. Sarebbero quasi 3.000 lampioni interessati in tutto il territorio comunale, sui 6.000 presenti. Una maggior sorveglianza contro vandali e micro criminalità. E intanto si sta stringendo il cerchio intorno al ragazzo che martedì sera ha rapinato un turista inglese in via Sottocastello. Due le telecamere che già riprendono la zona. Le immagini sono state visionate dalla polizia. Sicuramente i filmati sono sempre utili, sono sempre molto importanti. Con questi riusciamo a dare una svolta alle indagini in alcuni casi e altre volte invece a aiutare, confermare ulteriormente quello che già si sapeva. L'identificazione e l'arresto del rapinatore sarebbero ormai questione di ore. Il giovane e il turista sono stati notati da molte persone martedì sera. Il primo incontro al Caffè De On in Piazza Martiri. Al bar si è presentato un turista inglese, si è seduto per mangiare uno spuntino all'ora dell'aperitivo e mentre era seduto sono arrivati tre ragazzi, probabilmente sudamericani, hanno consumato un caffè. Probabilmente nel momento in cui il turista mi ha pagato i ragazzi hanno visto il portafoglio abbastanza gonfio del turista e gli è venuta questa bella idea di rapinarla. Qui solo qualche occhiata ma nessuna parola. Assolutamente qui al bar non hanno parlato di niente, ognuno è stato per conto proprio. Una volta usciti il giovane avrebbe avvicinato al 66enne inglese offrendosi come guida turistica. Una volta portato in via sotto castello gli ha strappato di mano lo zaino minacciandolo. La sua fuga è però stata notata dai passanti e ripresa dalle videocamere. Belluno rimane una delle città ovviamente più sicure d'Italia, detto questo è ovvio che i tempi sono comunque cambiati un po' dappertutto.